E oggi abbiamo Kimmy e Boo. Kimmy farà tutto il trattamento completo, mentre Boo al momento farà solo pulizia dei denti. Iniziamo il nostro trattamento, i nostri trattamenti, tra poco. Riempiamo la spa. Kimmy, Kimmy, è finita? Kimmy, è finita? Mi sei rimasta male, è finita? Porca miseria. Facciamo il bagno adesso. Ciampo, adesso poi faremo il risciacquo e metteremo il balsam che raccheremo un bel po' in posa, giusto bimba? Guarda, ci acquiamo. Chiudiamo bene l'orecchio. Chiudiamo bene l'orecchio. Chiudiamo bene l'orecchio. Chiudiamo bene l'orecchio. Siamo cupendo di assoluto. Mettiamo il balsisko. Vole via. Grazie. E ora lasciamo in posa, massaggiando. Ed eccoci qui, belle pronte. Chi c'è di là? La mamma? Chi c'è? C'è la mamma? La mamma? Haccomo. La mamma? C'è la mamma? pride nè? Grazie a tutti